Gli aquilani non rinunciano alle vacanze e su questo non badano a spese, magari diminuiscono il periodo. Parola delle agenzie di viaggio che non sentono la crisi in un periodo costellato invece da rinunce per molte famiglie. Tra le mete più gettonate c'è la Puglia. Prevalentemente mare, prevalentemente Puglia. Anche qualche scelta per la campagna, chi ha potuto osare ha scelto mete all'estero. Quindi zone tipo Zanzibar, le Canarie, prevalentemente poi vanno di moda tutto l'anno. Queste sono le mete che hanno scelto prevalentemente in questo periodo. La Puglia solitamente è quella più gettonata, Puglia e Sardegna sono le più gettonate. In genere ci si ferma in vacanza per una settimana soltanto, ma molti clienti optano anche per due. Tra i clienti anche molti giovani che decidono sempre più spesso di affidarsi alle agenzie di viaggio e rinunciare alle vacanze improvvisate su internet nelle quali spesso si spendono soldi senza nessun tipo di garanzia. Del resto prenotare con un'agenzia non costa molto di più e gli operatori riescono invece a risolvere qualsiasi problematica possa venire a crearsi. Quanto chiedono di poter spendere per fare una vacanza e quanto tempo soprattutto decidono di trattenersi in un momento in cui si parla tanto di crisi? Ma per le vacanze solitamente la crisi non esiste, mi sembra. Insomma per quello che è il nostro lavoro fortunatamente la crisi non esiste. Magari hanno ridotto un pochino rispetto agli anni precedenti il periodo delle vacanze, però almeno una settimana sono disposti ad andare e non badano neanche più di tanto a quello che si spende. Marta